Un'importante iniziativa per la comunità penale minorile di Caltanissetta. Con noi il capitano della Real Maestranza, Giuseppe Tuminelli, il dirigente dell'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Caltanissetta, Giuseppe Intilla, e il direttore dell'IPM della comunità penale minorile, Maria Grazia Carneglia. In cosa consiste questa iniziativa che coinvolge queste tre parti? L'iniziativa nasce dalla volontà del Comune, in particolar modo del Consiglio Comunale e dell'amministrazione che ha condiviso questa proposta, di destinare una parte delle risorse del 5 per 1000 che il Comune ha a disposizione a un progetto di utilità sociale, in quanto questi soldi sono vincolati a questo tipo di destinazioni. Per cui sulla base di questo è sorta un'intesa con l'Istituto Penale per minori, la comunità penale e l'associazione PARM, che è la cooperativa, la società cooperativa di un consorzio che è quello della real maestranza, per realizzare un progetto volto all'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale, come sono appunto i ragazzi che vivono questa condizione di detenzione e semi-libertà. Quindi realizzare questa attività di inclusione socio-lavorativa attraverso un percorso che prevede la realizzazione di trilocini formativi orientati al recupero degli antichi mestieri. Quindi i ragazzi cosa apprenderanno da voi? Apprenderanno il nostro mestiere come tapezieri, come falegnami, eccetera. e visto l'occasione delle 5x1000 che abbiamo l'occasione di sfruttare, noi ci metteremo in prima persona come artigiani di dare una mano a questi ragazzi ad aiutarli a insegnare un mestiere. Direttore, è un'ottima occasione per questi ragazzi perché quando usciranno avranno un mestiere tra le mani, come si può sol dire. Sì, sicuramente. Io sono molto contenta perché stiamo mettendo a frutto una collaborazione che esiste da tanti anni con la Real Maestranza che da sempre sono vicini sia all'istituto che alla comunità, tant'è che ogni anno dei ragazzi partecipano anche alle funzioni, alla celebrazione della Settimana Santa. Con il comune che storicamente è vicino all'istituto penale e a queste utenze, ragazzi difficili, ragazzi deprivati culturalmente e socialmente. Questa proposta è sicuramente stata ben accolta proprio perché consente ai ragazzi di fare delle esperienze pratiche, di formarsi a contatto con chi giornalmente si sporca le mani, chi giornalmente lavora quotidianamente per portare a casa in maniera legale e con i sacrifici del proprio, il frutto del proprio lavoro. Quindi sono certa che sarà un'esperienza entusiasmante per noi operatori ma soprattutto per i ragazzi che saranno inseriti nel progetto. Io mi auguro di poter inserire anche dei ragazzi dell'istituto. I detenuti sono davvero tra gli ultimi, in particolare in questi giorni dove aumenta sempre più la presenza di ragazzi stranieri, minori non accompagnati e deprivati davvero di tutto.